Il Comune di Pordenone fra pochi giorni pubblicherà il bando per l'assegnazione dei contributi PISUS destinate alle imprese. Il finanziamento di 1.200.000 euro sarà utilizzato per sostenere l'insediamento, il mantenimento o il rafforzamento delle attività delle piccole e medie imprese e dei loro consorzi che operano a Pordenone. I settori interessati sono quelli dell'artigianato artistico tradizionale, dell'abbigliamento su misura, del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese. L'assessore alle attività commerciali del Comune di Pordenone Bruno Zille. L'amministrazione comunale sta per presentare il bando PISUS che prevede appunto il finanziamento di 1.200.000 euro per le piccole e medie imprese. Lo farà attraverso una riunione che faremo giovedì insieme con tutti gli operatori delle piccole e medie imprese, la Camera di Commercio e anche le associazioni di categoria, proprio per presentare quelle che sono le linee di indirizzo per quanto riguarda il bando PISUS. È un momento importante questo per il mondo economico, per la città, perché credo che con queste risorse sarà la possibilità di rigenerare alcune di queste attività e permettere anche l'insediamento di nuove tipologie merceologiche in città. Credo che senz'altro questa opportunità offerta dal PISUS permetterà, diciamo, ce lo spichiamo, un certo respiro per quanto riguarda l'implementazione e le attrattività, sia per quanto riguarda il commercio, sia per quanto riguarda l'innovazione nel territorio e soprattutto nel centro storico cittadino.